Contrario al decreto l'assessore regionale allo sviluppo economico, Mino Borracino. Perché questo scudo dà la possibilità di poter continuare, nonostante i lavori di bonifica che stanno andando avanti, di poter eventualmente, qualche volta, eventualmente, sconfinare fuori da quello che è previsto dalle norme stringenti per l'applicazione di tutte le procedure necessarie per rendere, secondo i dettami della legge, lo stabilimento.